E' Caltanissetta la città siciliana con le tariffe idriche più salate, a sottolinearlo e l'indagine è realizzata in tutti i capoluoghi di provincia dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva. In media, secondo i dati reperiti, la famiglia siciliana spende in un anno 313 euro di bolletta idrica, quanto sostanzialmente nel resto d'Italia, dove la media è di 310 euro a famiglia. A Caltanissetta la spesa è di 394 euro, a seguire la città Nissena e Agrigento con 393 euro, Trapani con 339 euro e Palermo con 315 euro. Ad Agrigento si registra per la prima volta una discesa delle tariffe dal 2007, meno l'11,7%, mentre a Caltanissetta si registra un aumento del 43,8% nello stesso periodo. La spesa più bassa per il consumo idrico è invece a Catania, con 190 euro. La Sicilia, inoltre, secondo l'indagine, resta una delle regioni in cui è più elevata la dispersione idrica. Si tratta del 42% rispetto alla media del 33%. Sicuramente è una notizia che non farà piacere al cittadino e che sicuramente non fa piacere al movimento di vese del cittadino. Il sapere che Caltanissetta viene evidenziata come la città in cui l'acqua si paga di più non può essere accolta come una buona notizia. Ovviamente noi su questo interverremo al più presto, ormai dopo il ferragosto, chiederemo un incontro a Caltacqua per vedere e discutere come possiamo fare, quali soluzioni possiamo trovare per adeguarci a quello che praticamente sono i risultati migliori della Sicilia. Basti pensare che a Caltanissetta si paga in media 394 euro, le famiglie pagano 394 euro contro le 190 di Catania. La differenza è notevole. Inoltre bisognerà lavorare o comunque capire, perché si era già discusso in tempi passati, come poter migliorare la dispersione dell'acqua, perché spesso l'acqua viene dispersa in condotte che ormai sono obsolete e in condizioni pessime. Non è ovviamente un argomento facile, non è di facile risoluzione, però credo che ci debba essere l'impegno da parte dell'associazione di Caltacqua come ente e gestore di migliorare quanto più possibile e magari andare in una situazione che ci vede in un miglioramento, perché in questo momento abbiamo una notizia che è circa il 40% in più dell'acqua che abbiamo avuto come aumento in questi ultimi anni. Mentre per esempio Agrigento, anche se è in piccola parte, è riuscito a diminuire il costo delle bollette di circa il 10%. Io credo che Caltanissetta non abbia nulla in meno degli altri. Dobbiamo dimostrare che anche noi siamo capaci di poter far vivere meglio i nostri cittadini.